foglia di estate e auto smile vi soddisfa con questa volvo c70 col tetto rigido cabriolet allestimento momentum è un 2000 turbo diesel da 136 cavalli perciò con 100 kilowatt è una vettura anche molto economica da mantenere guardate com'è tenuta sia di carrozzeria che di interni dopo vi faremo vedere bellissima tetto apribile elettricamente sensori di parcheggio posteriori i chilometri sono 217 mila è del maggio 2009 la vettura ecco qui il tetto rigido ripiegato nel bagagliaio vetri elettrici anteriori e posteriori i sedili ovviamente regolabili in altezza molto belli gli interni il tunnel centrale bellissimo con lo spazio sul retro ovviamente essendo una volvo nulla sulla sicurezza lasciato al caso è una macchina sportiva in realtà è un ottimo prodotto anche per usarlo tutti i giorni perché essendo semplicemente un 2000 turbo diesel da 136 cavalli è molto economica guardate anche il motore disposto bene molto bello come disposizione bellissima una linea aperta favolosa adesso ve la faremo vedere anche chiusa con capote ecco qua è così con capote chiusa ovviamente il tetto è rigido ma questo effetto velluto grazie alla frappatura che è stata fatta molto bella molto elegante rende unica una vettura unica che ne dite noi la troviamo bellissima con questa capote vrappata vrappatura significa che ha solamente una pellicola che gli è stata apposta sopra al metallo perché il tetto è rigido non è morbido significa anche che potete chiuderlo come vi pare vedete dura non è morbida perciò anche per intemperie per lasciarla in strada va più che bene altrimenti se vi stancate di questo tessuto non tessuto qua in velluto lo staccate e sotto avete colore carrozzeria e con la capote ovviamente chiusa beh il bagagliaio diventa molto interessante riassumendo volvo c70 coupé cabriolet con tetto rigido 2000 turbodiesel 136 cavalli anno 2009 con 217 mila chilometri vi aspettiamo qua perché questa è la macchina che vi farà accogliere l'estate al meglio tetto elettrico completamente funzionante chiamateci e ricordatevi sempre di prenotare il vostro appuntamento prima di passare per visionare provare o solamente godervi la bella vista di questa chicca svedese di questa volvo c70 vi aspettiamo